Presidente, il comparto industriale italiano si sta spegnendo? Eh sì, diciamo il comparto industriale è il primo e a seguire ci saranno tutte le attività piccole o grandi perché si va verso un lockdown energetico, oramai è chiaro insomma. Io con la mia azienda avevo già fermato la prima volta a dicembre proprio perché avevo capito che c'era una curva di crescita che era pericolosissima. Ho fermato, ho rinegoziato con i clienti, ho cercato di mandare tanti messaggi a tutti per far sì che si potesse avere attenzione a questa situazione, però purtroppo niente è successo. Lei con un anno di anticipo aveva lanciato una provocazione come Presidente di un'industria dicendo che occorrerebbe un termo valorizzatore all'interno di ogni grande centro industriale italiano. Nessuno le ha dato ascolto, c'è qualche responsabilità della politica? Ma guardi, è inutile che diciamo purtroppo ce ne sono tante, però il problema vero è che anche qui questo l'Italia è un paese del no e oggi ne paghiamo i frutti e le conseguenze. Aver detto no agli impianti che fanno biogassa, aver detto no addirittura all'epoca nucleare, aver detto no a qualunque ricassificazione, a qualunque impianto che ci avrebbe reso autonomi le trivelle, la possibilità di tirar fuori il gas dove ne abbiamo perché ne abbiamo tanto, tutto questo non si è voluto fare e oggi ne stiamo pagando le conseguenze. C'è una soluzione che gli industriali si aspettano? Sicuramente il tetto del gas, il tetto al prezzo è una cosa che chiediamo da mesi e purtroppo l'unico che ci ha lavorato per davvero e ci ha creduto è il Presidente Draghi che però è stato lasciato solo perché va detto questo. A seguito di questo diciamo io quello che sto dicendo a tutti è fate molta attenzione perché quello che può darci in termini di beneficio il tetto al prezzo del gas riguarda il futuro ma le bollette di giugno, luglio e quelle di agosto che io dico sono delle bombe che sono in volo che arriveranno sulle case degli italiani e sulle piccole aziende e sulle grandi aziende saranno devastanti e allora queste bollette il governo deve obbligare le aziende che erogano energia a rateizzarle per almeno 24 mesi perché se pagavi 500 euro per l'energia e oggi ne paghi 4.000 tu hai bisogno di 24 mesi perché 4.000 per ogni mese nei 6 mesi del 2022 significa che l'azienda è finita. Di quanto è cresciuta la bolletta del suo gruppo? Guardi la bolletta del mio gruppo nel primo semestre, il confronto tra il primo semestre 22 e il primo semestre 21 passa da 6 milioni a 23 milioni di euro.